Voi siete i TKP, allora, da quanto avete formato questo gruppo dove vi esibite Zito Marietto? Zito Marietto, so che vuoi quella signora, dopo l'avrai, ma intanto sentiamo... Ci siamo formati nel 2000 circa, l'idea è precedente, antecedente il 2000, poi ci siamo formati nel 2000 e con un durissimo lavoro di composizione di brani originali in dialetto milanese abbiamo cominciato, diciamo, a lavorare. Ecco, quindi cosa ci proponete questa sera? Noi, questa sera... Dove vi si trova, anzitutto? A casa. A casa, perfetto. L'abbiamo tirato fuori di casa. No, è molto difficile trovare gli spazi per... Ve li daremo, dai, forza, cosa ci proponete stasera? Dunque, stasera dei brani di nostra composizione, il primo si intitola Guardie e Ladri. Guardie e Ladri, va bene, ascoltiamo Guardie e Ladri. Molto bene. Poi se ci piace ci sarà anche il secondo. Altrimenti tutto è a casa. Esatto, no, sto scherzando, forza. Il te capì. 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 è la casa. Il te capì. Il te capì. Il te capì. Non per necessità Adesso Che il capo niente fa Il va Al Mocarabia Caffè E roba più Ma con quel che l'ha grata E il grado La pensione Anca a lui Forse Espurisse Di man amore Ma tanto Cosa importa Si è lo stesso Al Mocarabia Caffè La Miele Lo urta Si gira Ma chi l'ha che il pistola Mi cuorevi come un tren Ma riuscivi Minkacciabatta Ma quando Questa è Questa è Questa è Al Mocarabia L'un 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 Lui, correva come ballante, a lui, adesso sono rincontrata, capace nel documento di testi, un senso della vita, che resta dai che sarà, ci sarà, poi gioca una carta e bucce, canti che noi in man, so che chiaro in man, canti che noi in man, in man qua per sé. Oh, le nasce un più lì, le nasce un più lì, oh, le nasce un più lì. Ecco, eccoci qua. E allora... Allora... Che cosa ci proponete adesso che ci sono tutti spagliati? Il Marietto non sa dove metto. Un'altra bella canzone. Vada Marietto. Un'altra bella canzone. Si intitola Luperari, è dedicata a tutti quelli che guadagnano meno di un milione e mezzo al mese. Quindi dedicata a tanta gente. A tanta, troppa. Con ticket o senza ticket? Senza. Senza. Con? Con. Dimelo tu, che ne sai. Te lo dico fra una settimana perché farò una trasmissione su questo. Va bene. Comunque a tutti quelli che guadagnano... Meno di un milione e cinquecentomila lire al mese. In euro... Vabbè, insomma. Fatevo il conto. Va bene. Facciamo i conti. Sentiamo. Mi sono, puoi operare per portarci al salare. che levi la macchè e a e m e e c e e mi sono un operare laudi se saurai per portacaidane che per i maia se ci c e mille per la casa la 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 Cincent mila per la spesa, la la la, cincent mila per la tuosa, e di dare che ne già fai. E cincent mila per la pagina che va, cincent mila per il tasse da paga, e cincent mila sacrifici, e di dare che ne già fai. E cinque, che ne sono un operario di quei straordinari, e se mi due le fa, e se mi fa ballare, e se mi son un operario, Per pute paghi ai debiti, pute fassi ai danni, che pè e mai a sé. E cinque mila per la cala la la, cinque mila per la spesa la la la, cinque mila per la tusa e di danni che ne c'ha la pè. E cinque mila per la macchina che va, cinque mila per i tassi da pagà, cinque mila sacrifici e di danni che ne c'ha la pè. E cinque mila per la macchina la la, cinque mila per la spesa la la la, cinque mila per la tusa e di danni che ne c'ha la pè. E cinque mila per la tusa e di danni che ne c'ha la pè.